buongiorno a tutti vi mando questo breve tutorial che vi permetterà di accedere alla piattaforma consigli.cloud che utilizzeremo per i consigli comunali online quindi da casa per intenderci. Ognuno di voi riceverà una mail nella quale troverete le credenziali di accesso. Le credenziali di accesso corrispondono a un nome utente che è la propria mail e una password. Nella mail che riceverete vi verrà inviata una password provvisoria composta da cinque numeri. Al primo accesso vi chiederà il sistema di cambiare questa password e ora vi farò vedere come fare. Allora questa è la mail che riceverà ognuno di voi. La prima parte riguarda il download dell'applicazione Zoom, dell'applicativo Zoom. Per un momento ignoriamo questa parte qua, concentriamoci soltanto nella seconda parte cioè quella dove vi chiede di collegarvi alla piattaforma consigli.cloud. Quindi bisogna cliccare su questo link dove vi dice vai su HTTPS eccetera eccetera. Quindi cliccando qua si apre una nuova pagina che è la pagina di Concealing Cloud. In alto a destra login, clicco su login e qua mi chiede di inserire email e password. Nel campo email dovete inserire la vostra email e nel campo password inserirete la password che avete ricevuto, quei cinque numeretti per intenderci che avete ricevuto via mail. Fatto questo cliccando su accedi la prima volta vi chiederà di reimpostare la password. Quindi riscrivete i cinque numeri che avete ricevuto e qui ci mettete una password vostra personale che utilizzerete le altre volte per collegarvi a questo sistema. Quindi vi chiedo di inventarvi una password e tenerla in memoria insomma conservarla da qualche parte in modo da poterla utilizzare anche per il futuro. Grazie a tutti.